ciao a tutti benvenuti su notizie di tendenza oggi parleremo di un momento speciale nella vita della celebre coppia italiana diletta leotta e loris carius sono stati avvistati recentemente in una festa tipica della germania e diletta ha sfoggiato un look davvero sorprendente ma non solo la coppia ha anche organizzato un viaggio speciale in austria per celebrare il meseversario della loro adorabile bambina aria stay tuned per tutti i dettagli iniziamo parlando della festa tipica della germania a cui diletta leotta e loris carius hanno partecipato di recente la coppia sembra più felice che mai e diletta ha indossato un abito straordinario un dirndil tipico delle occasioni speciali in germania questo vestito composto da una blusa un'ampia gonna e un grembiule è stato scelto da diletta in un elegante colore rosa una scelta davvero unica che ha attirato l'attenzione di tutti alla festa punto ma non è finita qui dopo la festa in germania la coppia ha deciso di fare un viaggio speciale in austria per celebrare i cinque mesi della loro dolce aria si trovano a kitzbuel una rinomata località turistica immersa nelle maestose alpi tirolesi le giornate trascorse all'aperto circondati dalla bellezza naturale delle montagne sembrano essere un momento di relax e rigenerazione per la coppia le ultime ore sono state particolarmente interessanti poiché diletta e loris hanno partecipato a una festa tipica austriaca hanno gustato il weisswurst un delizioso insaccato a base di carne di vitello e pancetta di maiale tipico sia della germania che dell'austria ma la vera sorpresa è stato il look di diletta durante l'evento ha indossato nuovamente il dirndil completato da sciarpe e gile questa volta in un bellissimo colore rosa grazie a tutti